Resident Evil 4 Remake, manca poco l'uscita, cosa dobbiamo aspettarci? Quare Enix, Force Poké e ne altri giochi sotto le aspettative, cosa succederà ora? Suicide Squad, dopo il gameplay che ha suscitato perplessità, anche il rinvio. Brutte notizie per il gioco targato Rocksteady? Outlast Real, quasi al punto d'arrivo, ma sarà un buon horror? Starfield, dopo molto tempo abbiamo una data d'uscita, ma ci sono ancora molte domande da porci. Bethesda sarà in grado di mostrarci un ottimo progetto? Tutto questo, nelle news videoludiche. Mancano pochi giorni dall'uscita di Resident Evil 4 Remake. Il 24 marzo è vicino, e dopo un bel assaggio della demo, abbiamo già pronte grandi aspettative. Il feeling è quello giusto. Il villaggio ci attende e l'orrore ora si mostra meglio di quanto ci si poteva aspettare. Ma dopo 18 anni, il gioco sarà ancora in grado di reggere? Dopo immagini, trailer e qualche leak, la risposta sembra proprio di sì. Quello che ci troviamo davanti è un remake in grande stile. Il cambio di grafica, le ambientazioni rese ancora più tetre e sporche. La paranoia, ora più palpabile dopo l'aggiunta di varie meccaniche, esenti dal gioco originale, e dopo finalmente l'inserimento anche di altri doppiaggi, tra cui l'italiano, si crea qualcosa che tocca nel pozzo magico del gioco originale, e ne ricrea un gioco nuovo, violento, frenetico e pauroso. Resident Evil 4 rimarrà nella storia, oltre per i 10.000 porti increati per varie console, per il cambio generazionale di una saga immortale, che ha avuto alti e bassi. E con questo remake, rivediamo di nuovo questo cambio che fu nel 2005. Aspettiamo ancora qualche settimana, ma delle ultime notizie mostrate, i fan non rimarranno minimamente delusi. La casa sviluppatrice di molti tra i più famosi videogiochi, come Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts, sembra ora nei guai. Dopo l'uscita di Forspoken, che a dire di molti è stata disastrosa, e dopo le vendite deludenti degli ultimi giochi, come Octopath Traveler 2 e Final Barline, Square Enix sembra ora nuotare nell'alta marea, e potrebbe avere problemi nel restare in superficie. Ma non è la prima volta che Square si ritrova in questo stato. Ora, vedremo come potrà risollevarsi. Dopotutto, il nuovo Final Fantasy deve ancora uscire, e forse sarà la scialuppa di salvataggio, che potrà portare la cara casa produttrice fuori dai guai economici. O almeno, questo lo speriamo. Aspettiamo il 22 giugno, per vedere se succederà questo. Anche se, per ora, i fan potranno solo giocarci da PlayStation 5. Ma non è solo Square Enix a essere nei guai. Rocksteady, famosa per aver portato la saga videoludica di Batman Arkham, ora si ritrova nei guai con la sua nuova opera, Suicide Squad. Ebbene, dopo le presentazioni all'evento PlayStation, che ha suscitato molte critiche, una tra le tante è l'inserimento di un live service che incentiva gli utenti a pagare con soldi reali, e il fattore di restare connessi anche in single player, cosa che non va molto a genio agli utenti PlayStation, il gioco sembra ora come ora in un punto di stallo. Alcune voci interne confermano un altro rinvio per questo gioco. Dopo il rinvio del 2022 al 2023, i fan non saranno contenti di vedere un altro rinvio. Questa volta adattato a destinarsi. Non ci resta che aspettare una conferma da Rocksteady e vedere se veramente rimanderanno di nuovo il videogioco, oppure se le voci di corridoio erano inesatte. Dopo sette anni, finalmente l'orrore ritorna a toccare il nostro schermo. Non puoi combattere, solo nasconderti, filmare e pregare. Outlast ritorna finalmente in vita, dopo l'ultimo capitolo che ci portava nelle lande desertiche dell'Arizona. Outlast 2 ha avuto un'accoglienza che loggiava assai il suono, la grafica e l'atmosfera, ma per molti fallì nel gameplay e nella difficoltà. A differenza del primo e del DLC Whistler Blue, il secondo capitolo ha avuto un discreto successo, per poi finire nel dimenticatoio. Ma sembra che questo terzo capitolo potrebbe cambiare le carte in tavola. Outlast Trials, oltre ad avere un titolo assai diverso, ha anche alcune aggiunte che potrebbero rendere il titolo particolare. La più importante è la meccanica multiplayer. Ebbene, nel gioco potremo giocare con altri 4 giocatori, all'interno di una struttura piena di trappole, puzzle e qualche pazzo che vuole tentare di ucciderci. La collaborazione è importante al fine di uscire dal livello, ma cosa succederà se non sarete capace di mostrare di edizione questi esperimenti? Oltre al multiplayer, il gioco uscirà in Early Access. Questo vuol dire che non sarà direttamente completo, ma avrà aggiunte di nemici, inediti, nuove mappe e correzione del gioco. Mano a mano che si va avanti col tempo. Per gli amanti del pericolo, segnatevi questa data. Il 18 maggio 2023. Siete pronti per affrontare la follia insieme a qualche amico? Bethesda ha sempre portato opere che hanno reso felici i videogiocatori. Da Fallout a Skyrim, ogni persona ha sempre mostrato passione nell'entrare in queste ambientazioni. E ora, dopo mondi post-apocalittici e dopo storie fantasy popolate da draghi, elfi e magie, è tempo di toccare vette più alte. Lo spazio. Starfield è sulla bocca di tutti e dal trailer, gameplay e notizie si capisce anche il perché. Dopo molto tempo passato a capire cosa dovremmo aspettarci da questo gioco, finalmente arriva una data. Ma non è molto vicina. I fan dovranno aspettare ancora un bel po' prima di mettere le mani su quella che potrebbe essere la nuova saga che porterà in vetta la casa statunitense. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Vedremo una cosa già vista in Fallout e Skyrim o sarà un'ambitazione totalmente nuova? E le promesse fatte? Verranno mantenute? Sono domande che neanche le stelle sanno rispondere. Ma magari, l'11 giugno, potremo avere qualche assaggio su ciò che ci aspetta. Pronti a salire su un'astronave e visitare il vasto spazio? Allora segnatevi la data del 6 settembre. Il gioco sarà disponibile sia su Steam, sia su Xbox Series X e S. Mentre la versione PlayStation, beh, diciamo che ancora non si hanno notizie. E dubito se ne avranno. Ebbene, sono tornato a fare i video. Dopo un po' di problemi mi dispiace tantissimo, ma è stato un po' un periodaccio nel provare a montare e provare a portare qualcosa di decente per voi. Ma finalmente, eccomi qua. Allora, sono finalmente tornato a fare i video per voi e non vedo l'ora di continuare queste mie avventure. Se vi è piaciuto questa tipologia di video, continuate pure a seguirmi e vedremo che cosa riusciremo a portarvi piano piano. Quindi, pronti per nuove fantastiche avventure? Allora, sono finalmente tornato a fare i video. Grazie. Grazie.